Milias di gente che visitano Boneiro per Sambuia e Snorkel. Il nostro turismo è conectato con l'uso di acqua. E due tipi di acqua che puntano di enfocare durante la celebrazione mondiale di turismo. La cosa che prende l'attenzione è che il destino del mondo è per proteggere l'acqua e che maniera sostenibile è per proteggere l'acqua. Il nostro turismo è molto importante per proteggere l'acqua, 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 l'acqua. E sicuramente per il turismo è molto importante, perché è quello che sta attraendo i nostri turisti a Boneiro, sull'acqua. Anche con l'acqua di sviluppo mondiale, Toc Boneiro sa di mantenere la sua posizione come un sito che più bello per Sambuia. Boneiro è il numero uno nel Carribe. La scuba diving è la scuba diving, la scuba diving è la scuba diving. La scuba diving è la scuba diving. e la scuba dive è la scuba diving. E la scuba dive in colonna off-blow off-blanko che rappresenta la scuba di acqua. Il celebrazione nella Plaza Villalmina Maiang è un momento per il Pueblo di Bonneiro porto per il turista che sta visitando la nostra isla. È informato per l'energia informativa, Fave Maduro.